Il tema del festival è felicità poetica, ero perplessa perché questo è la felicità tormentosa però ora, adesso, mi sento proprio felice perché le vostre interpretazioni, la vostra creatività mi inspirano molto, sono molto conosco, grazie è una piccolissima poesia che era musicata, si può dire musicata, da un compositore Dianna Giorgio Mirnabolo, mentre c'è una ricerca che si può trovare in YouTube è avui le ciro e gusto Dio, c'è un po' di caso, di un po' di scoperta, di un po' di scoperta, di un po' di scoperta «оттихий, небегающих tosky, но каждый день ты поднимаешь снова меня до незаметного труда на поиск единственного слова, которое найдется никогда». Perché uso la grammatica rossa in modo strano. Non si troverà mai. Anima mia. Ti stancherai un giorno di tenere insieme le mie magre ossa? Ogni giorno mi trasciugo, che è passibile. Una nostalgia silenziosa, che ti sente. Ma ogni giorno tu, di nuovo, mi stroni a un umile valdavoro? Alla ricerca di una singola parola, che non si troverà mai.